Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha expo questa mattina per accogliere Vladimir Putin in visita in Italia in occasione della giornata nazionale della Russia. Insieme i due leader hanno visitato i padiglioni dei rispettivi paesi e hanno poi avuto un colloquio privato a Palazzo Italia. Tanti dossier sul tavolo che nel corso dell'incontro fra i due leader sono stati affrontati, dalle future collaborazioni fra i due paesi alla crisi libica. Il premier Renzi ha anche auspicato una rapida soluzione della crisi ucraina. Abbiamo condiviso il principio fondamentale, vale a dire che l'accordo di Minsk 2 è la stella polare, la mussola, il punto di riferimento di tutti gli sforzi. E credo che tutte le donne e gli uomini di buona volontà lavorino perché il protocollo di Minsk 2 sia pienamente attuato. Nel corso della conferenza stampa congiunta il presidente del Consiglio italiano ha poi commentato la ripresa in atto in Italia. L'Italia esce da un periodo di grande difficoltà, anche i primi dati dei nuovi assunti che sono stati oggi pubblicati dall'Inps confermano che è in corso un inizio di ripresa che noi giudichiamo è molto importante, ma ancora la strada è molto lunga.